I puritani di Vincenzo Bellini, assenti da praticamente vent'anni dal palcoscenico del Teatro Regio, ci ritornano con un'importante coproduzione realizzata insieme al Maggio Musicale Fiorentino, firmata per la regia da Fabio Ceresa, scene di Tiziano Santi e costumi particolarmente belli di Giuseppe Palella. Nelle rappresentazioni qui al Regio di Torino, che inizieranno come sapete martedì 14 aprile, ci accompagneranno fino al 26, sul podio Michele Mariotti, che è ormai uno dei maggiori interpreti del repertorio belcantistico, e non solo, ma particolarmente in quest'ambito, che è già stato al Regio e che già avete avuto modo di apprezzare. In scena, nel ruolo della protagonista femminile, è Olga Peretiatko, che debutta al Regio e che peraltro è moglie del direttore d'orchestra, per cui potremmo vedere se il feeling coniugale si traduce anche in un particolare feeling musicale. E poi la parte invece assai complicata e acrobatica di Lord Arturo avrà la voce del tenore Dimitri Korczak, Nicola Olivieri, che tante volte abbiamo sentito nel repertorio mozartiano, veste i panni di Sir Giorgio Walton, e Nicola Laimo, quelli di Sir Riccardo Ford. Anche il secondo cast è di tutto interesse, il cast alternativo, perché vede Desiree Rancatore, Enea Scala, Mirko Palazzi e Simone del Savio, per cui credo di poter dire molto interessante dal punto di vista vocale. Sono molto contento che abbia accettato di tornare ai nostri microfoni Alessandro Mormile, e per chi non lo sapesse, è il critico del mensile L'Opera, uno dei pochissimi mensili specializzati italiani, specializzati appunto nel dar conto di quella che è la produzione lirica in Italia, e che ci onora stasera della sua presenza. Lo ringrazio, gli cedo la parola, e vi rimando poi alla fine per l'annuncio di due incontri prossimi, e quindi non scappate. Grazie Alessandro Mormile, prego. Buonasera a tutti, grazie Simone, buonasera a tutti voi. Bene, ci siamo con questi puritani, finalmente che ritornano sul palcoscenico del Regio di Torino, per un teatro che, permettetemi questa piccola chiosa introduttiva, un teatro che ha fatto moltissimo per Bellini, dall'apertura del 73 fino ad oggi. E' veramente curioso quanto il Regio sia stato attento nella sua programmazione a, magari non tutti gli anni, quest'anno ricordo che due sono le opere di Bellini in cartellone, puritani e norma. Però se uno ripercorre un po' la storia del nuovo Regio, si rende conto che Bellini è stato trattato piuttosto bene. Ricordo una bellissima edizione della Sonnambula che lanciò un po' Luciana Serra, un'altra Sonnambula ancora con Eva May e con Juan Diego Florez, che affrontava per la prima volta il ruolo del tenore. Diverse edizioni di Norma, fra le quali una anche con Renata Scotto, una bellissima edizione dei Capoletti e Montecchi con Mariela De Via e Martin Dupuis, due edizioni dei Puritani. Quella che ascolteremo è la seconda, ma la precedente non è meno prestigiosa, perché aveva Giuseppe Sabatini, che debuttava nel ruolo di Arturo in Italia, ancora Mariela De Via, quindi un'interprete, diciamo, eccelsa, belliniana, per Antonomasia, e poi Michele Pertusi e, se ricordo bene ancora il barito non mi sfugge, Michele Pertusi e, aiutami tu, vabbè, comunque sicuramente un cast d'eccezione. Questo per dimostrarvi che il Reggio di Torino è un teatro coraggioso. Perché coraggioso? Perché eseguire Bellini è una delle cose più improbe per un direttore artistico, perché Bellini è di una difficoltà esecutiva praticamente sovrumana. Sovrumana non tanto per ciò che è scritto di per sé, ma per ciò che l'interprete deve comunicare attraverso l'espressione che deve dare a quello che è il nucleo essenziale della struttura drammaturgica belliniana, che è la melodia. Quindi eseguire oggi Bellini ad altissimo livello è, non dico quasi impossibile, ma è una grande sfida. È una grande sfida. Il Reggio lo fa con tutti i crismi, con un cast che si presenta veramente al massimo delle possibilità e quindi speriamo che ancora si onori questo compositore che, nell'ambito della storia della musica, ricopre un ruolo un po' anomalo, diciamo, un po' anomalo. Arriveremo poi ai puritani, però voglio arrivarci per gradi per farvi capire come la carriera di questo compositore sia stata fulminante, ma così significativa e così singolare all'interno della produzione operistica del primo Ottocento. Innanzitutto, dal punto di vista stilistico, Bellini non è un erede di Rossini, non è un erede in senso assoluto della tradizione neoclassica, è un romantico, almeno così ci dicono gli storici della musica, ma è un romantico che guarda ancora molto al passato. Alcuni critici nell'Ottocento lo definivano l'erede di Paesiello, proprio perché riconoscevano in questa vena melodica assoluta e quintessenziata veramente la caratteristica così singolare di un compositore che guardava al passato ma si affacciava all'Ottocento. E' un compositore che ebbe una parabola di carriera molto breve, sostanzialmente solo una decina d'anni con dieci opere, alcune anche finite un po' fuori dal repertorio come il Bianche Fernando, altre invece diventate popolarissime ovviamente come Norma, come Puritani, come Sonnambula, però veramente i titoli del catalogo belliniano non sono molti, anche perché la parabola di vita di questo compositore fu brevissima, morì a soli 35 anni e tutte le sue opere furono composte sostanzialmente dal 25 al 35, quindi fra l'altro sostanzialmente un'opera all'anno e fra l'altro non un compositore prolifico come lo fu ad esempio Rossini, un compositore che faticava un po' a comporre ed era un compositore che anche dal punto di vista della vita era un personaggio in tutti i sensi romantico, un po' anche pasticcione dal punto di vista sentimentale e ovviamente questo contribuì moltissimo anche allo sviluppo della sua carriera e alla composizione delle sue opere. I Puritani si posizionano in questa parabola compositiva come l'ultima opera belliniana del compositore catanese composta per l'Opera di Parigi. Perché Bellini finì a Parigi? Beh, innanzitutto bisogna dire che Parigi era un po' un sogno per tutti i compositori dell'Ottocento. Chi otteneva successo a Parigi aveva un po' la credenziale per considerarsi veramente un grande. Così avevano fatto un po' tutti, prima anche di lui Rossini, ma così fecero nell'arco dell'Ottocento un po' anche tutti i compositori italiani che tentarono la scalata parigina e parlo ovviamente anche del nostro amatissimo Verdi. Prima di arrivare a Parigi, Bellini ebbe forse uno dei più grandi insuccessi della sua carriera che fu l'esecuzione della Beatrice di Tenda a Venezia nel 1833. Perché Bellini cadde con questa Beatrice di Tenda? Semplicemente per un motivo, perché Bellini era un grande abitudinario e aveva stretto una collaborazione strettissima con il librettista Felice Romani. Collaborazione più che proficua anche perché indubbiamente Felice Romani che nell'arco della sua carriera di librettista stese più di cento libretti e tutti veramente uno più bello dell'altro, fra l'altro anche il turco in Italia che abbiamo appena sentito, reca la firma di Felice Romani per Rossini, per questa opera bellissima con questa tinta un po' pirandelliana che denota appunto come Felice Romani fosse un librettista veramente coi fiocchi. Un librettista che lavorava fianco a fianco di Bellini per tutte le opere che Bellini aveva composto prima ancora di questo insuccesso della Beatrice di Tenda e quindi per la Sonnambula, per la Norma, per i Capulietti e Montecchi, insomma un po' per tutte le opere che avevano avuto successo in Italia e anche all'estero. Felice Romani firmò il libretto anche per questa Beatrice di Tenda che cadde a Venezia. ma perché cadde? Perché Felice Romani cominciava a essere veramente molto popolare dal punto di vista di librettista, di letterato affibbiato al mondo dell'opera e cominciava a essere impegnato su diversi fronti a comporre libretti per più compositori. Si staccò un po' da Bellini, c'era un legame anche di amicizia fra i due e questo determinò l'arrivo in ritardo di Felice Romani per la stesura del libretto e anche per le prove della Beatrice di Tenda. Questo creò veramente una sorta di distacco assoluto fra Bellini e Felice Romani. Addirittura ci sono delle lettere scritte da Bellini all'amico Florimo, amico di infanzia che divenne bibliotecario anche della biblioteca di San Pietro a Maiella a Napoli, amico intimo, biografo di Bellini. Lettere in cui appunto Bellini lamentava questa carenza di presenza di Felice Romani e soprattutto Felice Romani fu addirittura costretto dalla polizia a onorare il contratto e recarsi a Venezia per ultimare in fretta e furia il libretto. Il lavoro fu frettoloso e questo si ripercosse anche su quello che era la stesura musicale dell'opera che non piacque affatto nonostante il cast fosse prestigiosissimo e come protagonista c'era sempre ovviamente l'amata Giuditta Pasta. Questo bisticcio, questa fine di rapporti fra Bellini e Romani determinò molte scelte della carriera, dell'ultima fase della carriera di Bellini. Allora, innanzitutto Romani, che si sentì attaccato da Bellini, scrisse una lettera piuttosto polemica ai giornali milanesi in cui lamentava che sostanzialmente Bellini era diventato un compositore un pochino lento nella stesura della musica, un compositore anche un pochino frivolo dal punto di vista della vita privata e quindi denunciava che sostanzialmente Bellini era diviso un po' fra le pressioni della sua Minerva che era la sua musa ispiratrice che era il soprano Giuditta Pasta e anche gli svaghi amorosi che Bellini si prendeva con Giuditta Turina e lo definì Novello Rinaldo si stava oziando nell'isola di Armida e la sua Armida era questa Giuditta Turina che era l'amante di Bellini. Ecco, fra l'altro questo rapporto fra Bellini e la Turina crea un po' uno scandalo a quel tempo perché la Turina era sposata era sposata con un imprenditore tessile e questo ovviamente creò più di uno scandalo certamente Giuditta Turina era una donna molto avanti quasi una donna moderna come diremmo oggi però certamente a quell'epoca fece scandalo questo rapporto un po' ambiguo che fra l'altro anche Bellini aveva col marito della Turina che era perfettamente consapevole del rapporto che il marito aveva con che la Turina aveva con Bellini e ovviamente però il marito resistette fino a un certo punto poi abbandonò la moglie e a questi punti Bellini si trovò con il grande insuccesso veneziano sulle spalle della Beatrice di Tenda con uno scandalo non da poco dovuto a problemi sentimentali a queste sue scelte di vita decisamente disordinate e con grande cinismo perché vedremo dopo che Bellini ci è dipinto come un personaggio piuttosto liliale liliale come le sue melodie ma in realtà era un personaggio che dal punto di vista delle scelte sapeva perfettamente come portare avanti la sua carriera e in questo momento della sua vita capì perfettamente che la cosa più importante era certamente non un rapporto con una donna sposata e che la cosa principale per lui era la carriera e la carriera dopo tutti i successi riscossi in Italia ad eccezione di questa Beatrice di Tenda che poi si riprese però nelle repliche era lasciare l'Italia per mettere un po' anche a tacere degli scandali e recarsi a Londra dove nell'aprile del 1833 si recò si fermò per cinque mesi e in questi cinque mesi mise in scena moltissime delle sue opere di maggior successo come appunto Sonnambula come Capulete Montecchi Sonnambula fra l'altro eseguita in lingua inglese ecco è una cosa molto particolare a Londra Bellini entrò in contatto con la cultura musicale londinese ma soprattutto fece un altro incontro fondamentale della sua vita incontrò Maria Malibran che divenne un'altra delle sue muse ispiratrici per l'esecuzione delle sue opere quindi ci furono e ci sono si possono leggere ancora delle lettere in cui Bellini scriveva a Florimo dicendo che da quando la Malibran aveva cantato anche se in inglese la Sonnambula lui aveva scoperto in quest'opera una nuova opera nonostante fosse stata eseguita dalla pasta che era comunque un'altra delle sue muse canore ispiratrici con la Malibran non ebbe un rapporto amoroso rapporto amoroso che invece aveva avuto con la pasta ma comunque sicuramente a Londra consolidò quella che era la sua fama europea alla quale mancava certamente ancora la chiave di volta per la definitiva sconsacrazione che era l'ingresso a Parigi era già stato invitato a Parigi per la verità precedentemente ma gli era stato preferito Pacini l'occasione venne nell'agosto del 1833 Bellini lasciò Londra e si recò direttamente a Parigi e in questo preciso momento dal 33 al 35 Bellini iniziò la stesura dei puritani i puritani ai quali arriviamo ovviamente non senza aver nel primo anno anno e mezzo tentato di saggiare un po' quelle che erano le possibilità che un giovane compositore già di fama ma certamente non ancora accettato dai francesi dalla Francia dal modo di comporre francese ecco si interrogò un po' e si guardò un po' intorno per vedere di entrare in contatto con quelli che erano i compositori più in voga del tempo a Parigi e soprattutto per comprendere quello che era lo stile di comporre francese arrivò in un periodo che è determinante nello sviluppo anche dell'opera francese dell'ottocento perché non era ancora stata eseguita la Juive che fu la prima il primo assoluto grand'opera in Francia seguito poi successivamente nel 36 dall'esigono che aprirono la grande stagione del grand'opera ma un grand'opera c'era già stato era stato il Guillemtel di Rossini quindi in tutto sommato un compositore italiano aveva già tentato di sfondare in Francia riadattando alcune sue opere italiane come l'assedio di Corinto divenuto l'Essige de Corrente ma soprattutto scrivendo un'opera completamente nuova per la Francia un'opera che fra l'altro fu eseguita all'opera all'opera di Parigi Bellini sperava nel primo anno con tutte le conoscenze che si fece anche significative politiche di compositori di intellettuali di poter arrivare all'opera ma ripeto l'opera era un po' impegnata a dare adito agli interessi di Alevi per la composizione della Juive alla creazione di uno stile che tutto sommato non si confaceva tanto allo stile belliniano questo grand'opera con la presenza di soggetti storici la presenza del balletto la presenza di queste grandi scene di massa però in ogni modo Bellini riuscì a entrare a quella che non la definirei la porta di servizio ma una porta sicuramente molto significativa che era la porta del Teatro des Italiens un teatro dove venivano eseguite le opere in stile italiano in stile italiano un teatro che aveva una importanza fondamentale perché era in un certo senso non guidato da Rossini ma Rossini aveva all'interno della dirigenza del teatro amplissima possibilità di scelta quindi di scelta di compositori di suggerire anche lo stile ai nuovi compositori italiani che entravano a Parigi e che tentavano appunto di sfondare sulle scene parigine entrando dalla porta appunto diciamo così secondaria del Teatro des Italien dove però in questo teatro agivano cantanti di livello altissimo e si eseguivano opere in stile italiano opere che comunque occhieggiavano sempre in un qualche modo anche allo stile francese pur non essendo grandoperato a tutti gli effetti Bellini che ci è descritto adesso leggeremo anche alcune descrizioni piuttosto particolari che diedero gli intellettuali parigini della sua figura del modo di comportarsi del modo di atteggiarsi del modo di piacere anche alle donne le donne parlavano di lui come un bravo ragazzo con un modo di fare talvolta anche un pochino infantile però di una persona molto determinata determinata a raggiungere il successo e determinata a scegliere le persone giuste e le persone giuste furono certamente alcuni intellettuali come Ferdinand von Hiller pianista compositore che divenne che divenne suo amico lo avvicinò alla vita musicale parigina a compositori come Rossini Cherubini a compositori francesi come Boldieu Aubert a Lévy e Mayerberg che cominciavano anche loro a trovare il loro stile con appunto sulla scia del grand'opera ma poi soprattutto Chopin Chopin che divenne un suo amico personale con il quale si recava a Parigi nelle sale da concerto ci fu veramente un'amicizia molto intima e una comunione di intenti direi che è evidente fin nella musica nella musica belliniana la musica Chopiniana che hanno entrambi questa tinta un po' leopardiana che richiama molto lo stile di entrambi addirittura Chopin chiese di essere seppellito vicino a Bellini al cimitero parigino di Perle Chesse quindi veramente una grande amicizia amicizia con Ferdinand von Hiller vi dicevo pianista che descriveva così Bellini la sua personalità era come le sue melodie graziosa simpatica e affascinante il suo aspetto esteriore non ha nulla dell'immagine solita di un siciliano vi risparmio tutte le lettere che descrivevano la bellezza il fascino che emanava da questo da questo compositore siciliano che conosceva in maniera del tutto sommaria la lingua francese si faceva diciamo quelle che noi definiremo oggi anche molte gaffe però aveva un modo di piacere nell'ambito culturale parigino fra gli intellettuali e nel mondo che contava sentite che è curiosa che la descrizione che ci viene offerta dal poeta tedesco Heinrich Hein a proposito di Bellini era un tipo slanciato e si muoveva con grazia in modo quasi civettuolo era sempre vestito elegantemente aveva un volto roseo dai lineamenti regolari e piuttosto allungati i capelli erano ricci di un biondo pallido quasi dorato una fronte alta e nobile il naso dritto le sue caratteristiche somatiche avevano qualcosa di vago e gli mancavano dei particolari spiccati un volto latteo che a volte assumeva un'espressione dolce e triste che compensava la sua mancanza di umorismo ma era una malinconia superficiale che luccicava senza poesia nei suoi occhi e fremeva senza alcuna passione sulle sue labbra questa descrizione sembra veramente la fotocopia di quella che era la sua musica quindi un personaggio tutto sommato romantico a tutti gli effetti il giovane maestro sembrava e prosegue ancora Hein voler mettere in evidenza una languida tristezza i capelli erano pettinati con cura quasi sentimentale gli abiti sembravano avvolgergli il corpo con un dolce languore egli portava con sé un bastone assumendo un'aria idilliaca persino il suo modo di camminare era etereo elegiaco simile a quello di una fanciulla quasi a sottolineare quasi l'ambiguità che assolutamente non c'era nelle scelte amorose di Bellini in conclusione sembrava la personificazione di un sospiro in scarpette da ballo questa conclusione non poi così felice nei confronti di Bellini che comunque vi ripeto piaceva piaceva le intellettuali piaceva i musicisti piaceva le donne e quindi aveva tutte le caratteristiche per sfondare musicalmente nella città che l'aveva scelto l'aveva chiamato l'aveva chiamato al Teatro des Italien per eseguire le sue opere all'epoca più famose più replicate che erano la Sonnambula e la Norma ma soprattutto per proporgli un'opera nuova intermediatore fondamentale per la scrittura che Bellini ebbe per la sua prima opera a Parigi la prima assoluta dei puritani fu l'intermediazione di Rossini Rossini che fu veramente la chiave di volta per permettere a Bellini veramente di entrare in tutti i modi negli ambienti parigini nella cultura Bellini fu molto astuto anche nel diventare amico della moglie di Rossini che non era più la Colbra ma divenuta la Pellissier che era una francese una francese che odiava gli italiani tranne ovviamente il marito Rossini ma divenne amicissimo della nuova compagna parigina di Rossini e soprattutto Rossini fece di tutto per agevolare Bellini nell'avvicinarsi a questa nuova opera con consigli sempre molto preziosi anche in fase di gestazione dei puritani che fu una gestazione piuttosto lunga e particolare Bellini certamente non aveva era immensamente popolare a Parigi ma non aveva più il potere di un tempo è vero che Guglielmo Tell anzi Guilhem Tell perché la prima ovviamente fu in lingua francese a Parigi ebbe un successo enorme ma voi sapete benissimo che Bellini sostanzialmente concluse la carriera con il Guglielmo Tell Rossini concluse la carriera con il Guglielmo Tell si sono fatte c'è una mitologia che parla appunto di questa interruzione di carriera da parte di Rossini lo stile era cambiato Rossini era ancora legato a tipologie compositive passate si dice che fece l'ultimo sforzo con questo Guglielmo Tell che apriva la grande stagione del Grand Opera e poi Rossini si ritirò in realtà non è completamente vero la verità affondava nel fatto anche politico che Rossini cominciava ad avere delle difficoltà a Parigi innanzitutto era caduto Carlo X re di Francia che era il re della restaurazione durante la quale Rossini ebbe tutte le agevolazioni possibili a Parigi cadendo la restaurazione con le famose gloriose giornate del luglio del 1830 con la salita al trono di Luigi Filippo Rossini dovette accontentarsi del teatro des italiennes diventare nel consiglio di amministrazione un personaggio significativo all'interno di questo teatro addirittura gli fu assicurato un appartamento all'interno del teatro ma certamente non poteva più avere il potere che godeva sotto Carlo X re di Francia politicamente le cose erano molto mutate e certamente Bellini sapeva che Rossini non aveva più il potere di un tempo ma aveva ancora la stima del mondo musicale ecco perché accettò da parte di Rossini di essere aiutato per avvicinarsi alla composizione di questi di questi puritani ma c'era un altro grosso problema per per la composizione parigina dell'ultima opera di Bellini la scelta di un librettista perché Felice Romani non c'era più certamente c'era stato un tentativo da parte di Bellini di riavvicinarsi a Felice Romani uno scambio di lettere ma certamente ormai Romani aveva preso un'altra strada aveva si era dedicato alla stesura di libretti per altri compositori famosi fra i quali anche Donizetti diretto tutto sommato rivale di Bellini anche a Parigi in quegli anni e quindi dovette cercare un nuovo librettista lo trovò in un in un salotto parigino un salotto parigino animato da una principessa che era Cristina Trivulzio di Belgioioso che era un'esole mazziniana che aveva dovuto lasciare l'Italia si era rifugiata a Parigi inizialmente era addirittura vissuta in povertà era riuscita poi attraverso amicizie altolocate a rimpossessarsi del suo patrimonio e aveva animato un salotto parigino di intellettuali animato appunto da compositori da intellettuali Victor Hugo George Sand lo stesso Chopin Liszt e ovviamente Bellini che era considerato un po' di casa dalla principessa Cristina Trivulzio di Belgioioso la quale era amica di un letterato di un letterato anche lui esule mazziniano che si chiamava Carlo Pepole Carlo Pepoli fu un librettista un po' sui generi non era un librettista professionista era un politico un letterato un po' diciamo superficiale rispetto a a romani alla perfezione letteraria dei libretti di romani e quindi le difficoltà certamente fra Bellini e Pepoli emersero subito subito prima nella scelta del soggetto stesso e poi in corso d'opera per divergenze di idee fra compositore e librettista però non avendo altra scelta dopo aver scritto lettere disperate all'amico Florimo che ahimè doveva accettare a torto collo la decisione di collaborare con un librettista non professionista ma che in qualche modo gli dava garanzie di quelle novità che in qualche modo sia Bellini sia Pepoli cercavano per sfondare a Parigi al Teatro des Italiennes con quest'opera nuova il soggetto scelto fu un un dramma storico un dramma storico di Jacques Ancelot dal titolo Tête Ronde et Cavalier in realtà si tratta di una sorta di come si dice in francese di pièce mele de chant ossia un dramma recitato con degli inserti cantati con dei melodram con dei passi in cui i personaggi recitano e sono in sottofondo accompagnati quasi da un sottofondo musicale era un genere di composizione di dramma storico venato appunto di queste caratteristiche musicali che veniva rappresentato a Parigi al Teatro de Vaudeville che ospitava questi drammi storici un po' particolari come questo Tête Ronde et Cavalier che venne tradotto col titolo Puritani di Scozia per strizzare l'occhio e compiacere Walter Scott amatissimo da Bellini Walter Scott che era forse il letterato più famoso nell'Europa di quella prima parte dell'Ottocento ma in realtà nella traduzione Puritani di Scozia il libretto che non ha nulla a che vedere con la Scozia e con Walter Scott non era considerato il titolo ideale il titolo ideale finale furono i Puritani e i Cavalieri Puritani e i Cavalieri poi divenuto solo Puritani libretto di Pepoli che aveva un argomento storico in sottofondo un argomento storico inquadrato tutto sommato in maniera abbastanza precisa intorno alla metà del Seicento e che tirava in ballo un grandissimo personaggio della storia inglese quale Oliver Cromwell ma certamente Bellini non era minimamente interessato al soggetto al sottofondo storico da sviluppare ma soprattutto all'idea di questo amore ostacolato e al tema dell'innocenza offesa rivolto specificamente al personaggio di Elvira che in fondo può considerarsi insieme al personaggio di Arturo la vera protagonista dei Puritani ci furono degli scontri diretti proprio in fase di composizione di stesura del libretto e della musica fra Pepoli e Bellini e a un certo punto Bellini scrisse a Pepoli queste righe che vanno veramente lette per comprendere come era un po' il clima in quel periodo che va dal maggio del 1834 al dicembre dello stesso anno circa sette mesi che impegnarono Bellini e Pepoli nella gestazione un po' faticosa di questi Puritani Pepoli scrisse ricevette da Bellini questa lettera se la mia musica sarà bella e piacerà tu potrai scrivere un milione di lettere contro l'abuso dei compositori verso la poesia scolpisciti nella testa a lettere adamantine il dramma per musica deve far piangere inorridire morire cantando poesia e musica per fare effetto richiedono naturalezza e niente più sai perché ti dissi che il buon dramma è quello che non ha buonsenso perché conosco la bestia intrattabile che è il letterato e com'è assurdo che le sue regole generali di buonsenso vengano adottate addio un abbraccio dal tuo incorreggibile Vincenzillo allora il dramma per musica deve far piangere inorridire morire cantando a Bellini sostanzialmente interessava sostanzialmente solo la commozione che avveniva attraverso la melodia e non interessava tutto quel bagaglio storico eroico militaresco che gli venne imposto tutto sommato da da Pepoli questo fu da un lato un problema nella fase nella fase di stesura dell'opera ma a conti fatti se poi si esamina l'opera e si valuta anche l'importanza che nella storia della musica anni puritani e nella parabola compositiva belliniana ci si rende conto come la singolarità dei puritani sia assolutamente unica all'interno della produzione belliniana la presenza di questo elemento eroico cavalleresco diciamo pure risorgimentale ecco in qualche modo doveva essere trattato e considerato da Bellini perché veniva ovviamente imposto dal libretto dai versi dalla trama dalla trama stessa ci fu un battibecco non solo con il librettista ma anche uno scambio di idee molto significativo e importante con Rossini che consigliò Bellini di posizionare con grande attenzione quella che era quello che è il duetto forse più famoso più passato alla storia per essere il duetto risorgimentale che apre un po' il risorgimento musicale ottocentesco che è il suoni la tromba tutto il duetto fra baritono e basso e che si conclude con il famosa la famosa stretta suoni la tromba intrepido con questo assolo di tromba che veramente lancia l'opera romantica verso il risorgimento bene Bellini accettò il consiglio di Rossini di posizionare questo duetto non alla fine nel corso del primo atto ma alla fine del secondo atto dopo la pazzia di Elvira dopo questo fiume di lirismo questo fiume di patetismo che rappresenta la pagina meravigliosa che è la la pazzia di Elvira si passa direttamente a una pagina di argomento storico come come il duetto fra Riccardo e Giorgio con questo stacco risorgimentale così con questa invettiva così veramente originale nuova se si pensa a quello che fino a quell'epoca aveva composto Bellini c'è un altro fattore prima di entrare proprio in media stress sulle caratteristiche dei puritani anche un po' sulla sua trama su quelle che sono i suoi personaggi su quelle che furono le scelte belliniane per la compagnia di canto assolutamente straordinaria che Bellini si trovò a disposizione a Parigi quando andò in scena la prima dei puritani contemporaneamente alla gestazione dei puritani parigini Bellini aveva da risolvere un problema contrattuale aperto con il San Carlo di Napoli un problema contrattuale che lo legava per la composizione di tre opere e che metteva veramente in difficoltà Bellini dal momento che non avendo più Romani a disposizione avendo già sperimentato che con Pepoli insomma il lavoro non era così facile riuscire a comporre tre opere nuove per il San Carlo poteva creargli seri problemi proprio in un momento in cui tutto sommato tentava di sfondare a Parigi con questi puritani in qualche modo risolse il problema col San Carlo di Napoli studiando in corso d'opera una seconda versione dei puritani che sostanzialmente oggi è quasi quasi sconosciuta anzi per la verità non venne mai eseguita la seconda versione dei puritani è stata riscoperta e rappresentata solo nel 1986 a Bari dopo un lunghissimo lavoro di revisione sulle fonti e su tutte le pagine che Rossini che Bellini oggi chissà perché mi viene Rossini scusatemi che Bellini componeva per Parigi e durante le prove prima dell'andata in scena a Parigi dei puritani Bellini studiava se inserire o tagliare sostanzialmente cosa avvenne? avvenne che la partitura dei puritani scritta per Napoli fu completata da Bellini prima ancora che l'opera la versione parigina andasse in scena nel 35 e Bellini inviò questa partitura a Napoli lo fece appunto prima che l'edizione parigina andasse in scena e quindi nel corso delle prove a Parigi si rese conto che alcune delle pagine composte per Parigi per Napoli dovevano essere in qualche modo riviste o tagliate sono pagine veramente significative che non ci fanno tutto sommato vedere un'opera nuova nella versione napoletana ma certamente un'opera che ricalca un modo di vedere belliniano più italiano un modo di assecondare ancora di più i cantanti perché l'interprete di Elvira non avrebbe dovuto essere Giulia Grisi ma appunto l'amata Malibran e quindi sostanzialmente il lavoro per Napoli da parte di Bellini fu di cambiare alcune tonalità di alcuni brani brani significativi fra l'altro come ad esempio la Teocara con il famoso Do Diesis di Arturo che diventa un Do naturale anche tutto il duetto fra Elvira e Arturo dell'ultimo atto venne abbassato di tono quindi la voce del tenore non arriva fino al re ma decisamente più in basso la parte finale del tenore Credea si misera con il fa sovracuto fu eliminata perché affidata al soprano affidata alla Malibran il ruolo di Riccardo di Baritono passò a tenore ma soprattutto ci sono tre pagine veramente significative che in corso d'opera poi furono eliminate dopo la prima esecuzione a Parigi durante le prove sicuramente larghetto sostenuto affettuoso se il destino a te mi invola fu mantenuto ma fu eliminato il cantabile sostenuto del duetto dell'ultimo atto da quel dì che ti mirai e soprattutto la cabaletta finale Sento mio bell'angelo che in realtà è un duetto ma in alcune versioni dei puritani soprattutto estremamente belcantistiche come quelle affidate ad esempio a Joan Sutherland questo duetto che in realtà viene poi viene a diventare una cabaletta quando sono le grandi virtuose eseguirlo ecco queste due pagine questa porzione del duetto fra Arturo e Delvira dell'ultimo atto e questo duetto cabaletta finale furono eliminati eliminati da subito prima ancora che l'opera andasse in scena in prima assoluta a Parigi ma alla prima esecuzione parigina ci fu una pagina un terzetto bellissimo se il destino a te mi invola che vi ho già citato che venne mantenuto una pagina veramente magnifica che alcune volte in alcuna esecuzione dei puritani anche considerate così tradizionali viene mantenuto una pagina che voglio farvi ascoltare anche perché si ha un po' la temperatura di cosa Rossini cosa Bellini vuole dal tenore questo canto elegiaco patetico questa nostalgia eretta veramente a sistema compositivo assoluto che rende il personaggio di Arturo assolutamente unico nella poetica compositiva belliniana e nella poetica compositiva che mira alla nascita del tenore romantico malinconico come lo si concepiva ad inizio dell'ottocento perché Bellini aveva questa caratteristica di comporre per voci ben specifiche per cantanti che sapevano rispondere alle sue esigenze stilistiche ma cantanti che avevano ovviamente capacità espressive straordinarie come Rubini che si trovò a interpretare alla prima questo bellissimo terzetto che poi avrebbe dovuto essere ripreso a Napoli perché l'interprete napoletano del ruolo di Arturo non doveva essere più Rubini ma bensì Dupré ossia l'inventore del do di petto quindi tutta l'edizione napoletana in qualche modo cambiava un po' le carte in regola mentre dal punto di vista stilistico a Parigi Bellini aveva a disposizione ancora il suo tenore per eccellenza il tenore attraverso il quale aveva veramente creato uno stile che era Rubini ascoltiamo quindi questa pagina così singolare che situata al sul verso il finire del secondo atto c'è già stato lo scontro il duello fra Riccardo e Arturo è caduto il velo di Enrichetta dopo racconteremo un po' la trama cosa avviene in questo momento e Arturo prima di lasciare il castello dà idealmente addio alla sua Elvira in una maniera così nostalgica e così patetica così commovente veramente è solo un assaggio per farvi capire qual è lo stile che Bellini intendeva per il personaggio di Arturo non ho scelto la pagina più famosa la Teocara che non ascolteremo ho scelto pagine che ci facciano veramente capire cosa Bellini voleva dal tenore e voleva nella filosofia compositiva che aveva in mente per questi puritani parigini per questa sua malgrado sua ultima opera perché certamente dopo il grande successo del 1835 se non fosse morto nello stesso anno Bellini avrebbe proseguito a comporre opere per Parigi però certamente avete sentito già da questa magnifica melodia che ci presenta il personaggio di Arturo in questo specifico momento del secondo atto capite quanto a Bellini stesse a cuore soprattutto questa oscillazione lirica che attraversa certamente i puritani e che si contrappone a quello che invece è il piglio eroico e cavalleresco del quale abbiamo accennato prima voluto tanto dal librettista Pepoli però ci sono lettere ve ne abbiamo anche letta una in cui Bellini poneva l'accento sulla particolare attenzione che la drammaturgia dell'opera doveva prestare all'irismo non solo affidato al personaggio di Arturo ma soprattutto al personaggio di Elvira e scrisse a Florimo delle moltissime lettere in cui avvicinava il personaggio di Elvira ad un'altra eroina dell'opera del Settecento che era la Nina ossia la pazza per amore dell'opera di Paesiello la Nina ossia la pazza per amore è stata un'opera popolarissima nell'arco dell'ultima fase del Settecento un'opera che rappresentava appunto questo senso di estrema elegia che attraversa anche tutta la produzione compositiva di Paesiello e che ritroviamo ancora direi esasperata approfondita in tutta la produzione belliniana e soprattutto nei puritani e nel personaggio di Elvira Elvira non è una tragedienne come è ad esempio Norma non è un personaggio di mezzo carattere come può essere Amina nella Sonnambula non è un personaggio tragico come può essere anche Beatrice nella Beatrice di Tenda è un personaggio offeso offeso dal tradimento dal tradimento subito dal proprio amato un personaggio talmente innamorato talmente innamorata del proprio Arturo da impazzire da perdere il senno per lui così avveniva anche nella Nina pazza per amore dove a un certo punto Nina si sente abbandonata dal suo Lindoro canta una bellissima scena il mio ben quando verrà una pagina in cui la protagonista perde il senno perché si sente abbandonata dal proprio amato che amava a tal punto da diventare matta quando si sente da lui abbandonata quindi una caratteristica che ritroviamo non solo espletata nell'opera del primo ottocento attraverso quelle che sono le grandi scene di pazzia una fra tutte ovviamente quella della Lucia di Lammermur di Donizetti ma badate bene c'è una sostanziale enorme differenza fra la pazzia della Lucia di Lammermur della protagonista e la pazzia di Elvira dei Puritani la pazzia di Elvira dei Puritani è ancora una pazzia che guarda al passato al Settecento per questo Bellini è un compositore così ambiguo nella storia dell'opera perché è un compositore che si apre al romanticismo si apre attraverso anche certe scelte dovute fare che ha dovuto fare nei Puritani anche per avvicinarsi a questa vena così eroica che è presente in alcune pagine dell'opera ma è un compositore che guarda al passato in questo suo assoluto desiderio di sposare la melodia come elemento fondante della sua drammaturgia una melodia che diventa espressione dei sentimenti e della psicologia stessa dei personaggi ecco perché il centro veramente dell'opera dei Puritani può considerarsi a di là della sua complessa architettura musicale certamente la grande scena della della pazzia la differenza evidente fra la pazzia della Lucia di Lammermur e la pazzia di Elvira è evidente anche nella drammatizzazione così spiccata che la protagonista di Lucia ha che quasi coi gesti mima attraverso la cadenza il suo essere andata via di senno invece nella pazzia belliniana abbiamo una sorta di estasi lirica che non è presente nella pazzia della Lucia di Lammermur di Donizetti si tratta di climi di climi espressivi assolutamente in antitesi che possono far pensare certamente a una scelta compositiva di avvicinarsi a quello che era un cliché tipico del grande soprano dell'ottocento che era la grande scena della pazzia con cui si concludeva l'opera o che era al culmine della drammaturgia di un'opera ma che certamente faceva avvicinare Bellini ad un'idea assolutamente nuova rispetto ai compositori che usavano il tema della pazzia in maniera non così lirica non così patetica non così nostalgica non così commovente dall'altro aspetto siccome l'opera vi ho detto fu scritta per Parigi per il Teatro des Italiens non per l'opera c'era comunque un interesse anche per i compositori italiani che operavano in questo teatro francese di avvicinarsi un po' a quella che era la ricercatezza della struttura molto amata dai francesi che andava un po' in antitesi con quella che era invece la scorrevolezza tipica dei compositori italiani non dimentichiamo che lo stesso Verdi incontrò numerose difficoltà quando si trovò a comporre per Parigi e scrisse delle lettere in cui annotò che spesso questo desiderio di ricercatezza strutturale che i francesi amavano creava limitava un po' quella che era la libertà il respiro tipico dei compositori italiani però all'interno dei puritani abbiamo delle scene che ci fanno comprendere come Bellini fosse attento ad aprirsi appunto a questa nuova ricercatezza strutturale che si ha evidente fin dalla grande scena che apre l'opera che è questa scena introduttiva di ambientazione militare siamo nella fortezza di Cromwell abbiamo questo clima musicale che viene restituito attraverso anche una ricerca specifica che Bellini fa sul colore strumentale sulla tecnica dell'utilizzo degli strumenti a percussione ci sono corni ci sono trombe che servono per restituire appunto l'atmosfera militare di questa prima scena una scena articolata attraverso cori una scena che fa ricorso ad un espediente che Bellini utilizza molto nei puritani e che è quella della voce fuoriscena ci sono dei cori che si ascoltano dall'esterno c'è la preghiera puritana che ascolteremo in questa grande introduzione del primo atto le voci fuoriscena sono utilizzate anche nella scena della della pazzia di Elvira nel canto di Elvira dell'ultimo atto poi ripreso dal tenore nel Corriavalle Corriamonte insomma c'era questo espediente di rendere più movimentata la drammaturgia attraverso appunto questa voce fuoriscena che interviene all'interno del discorso musicale belliniano l'atmosfera militaresca in fondo abbiamo un po' già detto è presente nel grande duetto fra baritono e basso con suoni la tromba intrepido però direi che la scena più articolata è proprio questa introduzione del primo atto che io vi proporrei di ascoltare per renderci veramente conto come questa struttura più complessa avesse impegnato molto Bellini a Parigi per la stesura dei puritani altra caratteristica fondamentale dei puritani è il desiderio che ha Bellini di costruire grandissime scene senza mai rinunciare alla componente melodica scene dove la classica struttura del melodramma con recitativo aria e cabaletta viene tutto sommato un po' un po' meno e tutti quelli che sono i risvolti melodici meravigliosi amatissimi da tutti noi sono incastonati in delle grandi scene inconcertati o in scene che risultano veramente articolatissime tanto che i numeri musicali dei puritani a differenza delle altre opere di Bellini sono pochissimi ad esempio pensate al primo atto pensate al modo con cui i protagonisti si presentano solo il baritono si presenta con una classica aria con recitativo aria e cabaletta quindi col sistema classico di presentazione della cavatina d'ingresso il tenore si presenta con la teocara che è un'aria tutto sommato incastonata insieme al coro e in una scena corale Elvira entra in scena con una polacca il son vergine vezzosa e poi ha questa bellissima melodia del deviene al tempio che è inserita in quella che è la grande struttura del finale primo poi ha la grande scena della pazzia del secondo atto dopo l'aria del basso cinta di fiori ma anche in questo caso la struttura della pazzia di Elvira è una struttura molto particolare che ha una tensione emotiva interna che oscilla in continuazione fra cantabili e recitativi lo sentirete a teatro è una scena della follia molto lunga che Elvira intona innanzitutto la presenza anche di altri personaggi ma questo voi mi direte avveniva anche nella pazzia della Lucia ma non in questa maniera non in questa maniera perché i personaggi diciamo che fanno da pertichino al canto di Elvira sono personaggi che partecipano loro stessi all'emozione della pazzia di Elvira questa Elvira che attacca qui la voce sua soave e poi prosegue con la famosissima melodia Arrendetemi la speme che viene ripetuta in maniera quasi estenuante quindi c'è questo estremo senso di elegia quintessenziata che viene dilatata assolutamente nel tempo e si viene a intervallare con questi piccoli bagliori di visioni festose che la protagonista intona perché il tutto avviene col fatto che Elvira pensa ancora di essere sposa di Arturo e quindi rimembra in questa scena della follia il suo desiderio di essere sposa del suo amato quindi tutta questa struttura è piuttosto complessa piuttosto articolata piuttosto nuova e diciamo che tutti gli interventi che nell'arco della scena della pazzia vengono fatti da Giorgio e da Riccardo sono interventi molto commossi e patetici che sostengono quella che è lo sviluppo drammaturgico così originale scelto da Bellini per questo momento melodico e questo badate bene avverrà anche nell'ultimo atto perché lo stesso tenore non si presenta con una grande aria di furore in senso romantico assoluto certo nell'ultimo atto il tenore è l'emblema dell'eroe romantico ma è un eroe romantico nostalgico è un eroe romantico assolutamente diverso da Edgardo nella Lucia di Larmermoor è un eroe che quasi ricorda il suo esilio in una maniera non drammatizzata ma commovente e quindi pensate al recitativo e all'arioso Correa Valle Correa Monte che dona ad Arturo una tinta assolutamente romantica ma anche una tinta antica legata sempre a questo desiderio che Bellini ha di esaltare la melodia anche in questo arco strutturale così complesso studiato per un'opera come i Puritani abbiamo citato l'introduzione introduzione che ci permette un attimo anche di presentare un po' quella che è la trama perché voi possiate capire anche un po' cosa si va a sentire e dal momento che abbiamo anche parlato del tema storico che sta alla base dei Puritani non possiamo non ricordare che l'opera anche se il libretto non dà una precisa data in cui si svolge si presume sia intorno al 1650-51 vicino al periodo della battaglia di Wurchester che segnò la definitiva caduta degli Steward il personaggio principe dell'opera ovviamente che non c'è non è citato è Cromwell Cromwell Puritano generale Puritano che ebbe una grandissima influenza nella storia inglese politico riformatore dell'esercito che fece sostanzialmente fu l'unico non sovrano ma governante inglese che fece cadere la monarchia proclamando la repubblica un grande condottiero che fu anche il primo che unì il parlamento facendo delle campagne militari in Scozia in Irlanda formando un unico parlamento rendendo molto unita l'Inghilterra anche se venne proclamata la repubblica ci fu una guerra civile molto lunga fra gli Steward e Cromwell e addirittura re Carlo I Steward fu ghigliottinato fu ghigliottinato e a seguito della sua morte Cromwell salì al potere quindi la vicenda dei Puritani si svolge proprio in questo preciso momento in cui stanno per cadere le ultime difese degli Steward e sta per salire al potere l'Inghilterra puritana di Cromwell i personaggi principali dell'opera l'abbiamo già un po' tutti citati ma per contestualizzarli un po' nella trama sono Lord Gualtiero Walton che è un personaggio tutto sommato abbastanza secondario che è governatore ma che ha il merito di essere il padre di Elvira che è la vera protagonista Elvira che è innamorata di Serraltura che è un cavaliere quindi un seguace degli Steward perdutamente innamorata quindi di un rivale anche se promessa sposa dal padre a Sir Riccardo Worf che è un colonnello a questi punti nonostante Lord Gualtiero Walton abbia promesso la mano della figlia ad un suo alleato a Sir Riccardo che è baritono cede al desiderio della figlia di appunto attuare un matrimonio non di interesse ma di amore e quindi accetta che Elvira sposi Lord Arturo ovviamente scatenando all'inizio dell'opera la delusione di Riccardo che sperava di sposare Elvira e quindi ha questa grande scena introduttiva che diciamo celebra un po' quelle che sono le nozze imminenti che si verranno a celebrare che sono appunto quelle fra il tenore protagonista Arturo ed Elvira quindi richiami di guerra echi di uno stile compositivo che guarda quasi ai canti puritani con questi canti fuori scena il coro femminile che entra in scena ed esulta festeggiando quelle che saranno le prossime nozze di Elvira in questa scena molto articolata che dura quasi 15 minuti ma che ci dà appunto la temperatura della assoluta novità e dall'assoluto impegno che Bellini attuò nell'affiancare a quella che era la vena melodica tipica delle sue opere anche questa vena strutturale così nuova con questo desiderio di creare attraverso il colore orchestrale anche una scena quindi ascoltiamola perché quest'opera rappresenta quest'opera questo specifico momento dell'opera rappresenta un po' un unicum all'interno della produzione belliniana rendendo appunto così singolare i puritani non ho scelto pagine forse le più famose dell'opera ma certamente che pagine che ci permettono di capire quella che è la singolarità della struttura dei puritani nel panorama appunto belliniano e la singolarità anche che hanno pagine come questa in cui che non sono capolavori ma che ci permettono di capire come Bellini appunto tentava di avvicinarsi a questa tinta un po' francese nell'articolazione molto varia delle sue grandi scene tornando velocissimamente alla trama abbiamo detto che Elvira ha ricevuto la benedizione del padre e anche dello zio Giorgio per unirsi in matrimonio con Arturo della fazione degli Stuart Riccardo si è già lamentato nell'aria che segue questa scena di non poter unirsi ad Elvira si passa alla seconda scena del primo atto con la presentazione dei due innamorati con la celeberrima aria a Teocara con il do diesis che crea sempre un po' di fibrillazione ai tenori e questo a Teocara che è inserito appunto in una scena tutto sommato corale e in questa scena viene presentato anche un personaggio che ha una funzione musicale secondaria ma drammaturgicamente fondamentale che è il personaggio di Enrichetta mezzo soprano viene presentata da Lord Gualtiero Walton che unisce i due sposi e regala loro un salvacondotto perché Arturo ed Elvira possano lasciare la fortezza dice a tutti che si dovrà trattenere nella fortezza perché dovrà essere processata una donna misteriosa di cui nessuno conosce il nome che si crede una spia degli Stuart Arturo riconosce che Enrichetta è niente meno che Enrichetta di Francia la moglie del giustiziato re Carlo I Stuart e quindi decide di salvare Enrichetta dalla morte e di accompagnarla fuori dal castello questa scena che porta fino alla chiusura del primo atto è una scena lunghissima articolatissima all'interno del quale ci sono pagine di bellezza melodica assoluta e pagine anche in cui si guarda molto al romanticismo attraverso la presenza di un duello un duello che per esempio avviene fra Arturo e Riccardo drammaturgicamente cosa avviene Arturo vi ho detto ha deciso di salvare Enrichetta nel frattempo entra Elvira che si presenta con questa estrosa polacca il sonvergine vezzosa dona alla misteriosa donna un velo prega la donna stessa che lo indossi a questo punto Arturo ha l'idea di mantenere Enrichetta con il velo di Elvira e di riuscire a fuggire insieme a lei dal palazzo viene inizialmente fermata da Riccardo che lo sfida duello ma Enrichetta a questi punti per salvare Arturo si toglie il velo e svela di essere la donna misteriosa traditrice che doveva essere processata non riconosce in lei la regina di Francia ma comunque riconosce comunque in Arturo un traditore permette comunque lo stesso ad Arturo e a Enrichetta di fuggire per liberarsi del rivale per accusare il rivale di tradimento e per far sì che Elvira si allontani da questo amato Arturo ritenendolo traditore Elvira non ritiene Arturo traditore si ritiene semplicemente tradita e impazzisce impazzisce e da questo momento preciso il finale del primo atto fino a sostanzialmente quasi al finale dell'opera Elvira vive in una dimensione assolutamente onirica e trassognata che la fa oscillare fra la follia e le parole poco ragionate e sempre comunque richiamanti il suo desiderio di essere vicina ad Arturo anche nella scena della pazzia attraverso il suo desiderio di celebrare un matrimonio che è avvenuto ma mai consumato quindi fin da questo primo momento in cui Elvira sa di essere abbandonata da Arturo sia uno dei momenti più poetici e più belli dei puritani che l'aria deviene al tempio è un arrioso per la verità non è un'aria vera e propria ma qui scopriamo veramente ciò che Bellini desiderava comunicare attraverso il personaggio di Elvira affidata a Giulia Grisi Giulia Grisi creò con questo specifico personaggio anche una tipologia vocale che era la tipologia del soprano lirico poi divenuto lirico leggero un soprano lirico che cantava su queste melodie così distese così pure che erano la fotocopia di quello che era anche l'anima stessa del personaggio e che richiama appunto questo genere l'armoyant che abbiamo ricordato prima vicino alla Nina pazza per amore di Paesiello questo personaggio che impazzisce e esprime la propria sofferenza attraverso la melodia e attraverso la malinconia perché il nodo essenziale da capire per eseguire bene Bellini e per comprendere la sua filosofia musicale e capire come va cantata questa benedetta melodia belliniana allora in realtà la melodia belliniana non va cantata non va intonata va permettetemi lo simolo va recitata per recitare la melodia cosa si deve fare un interprete un grande interprete deve entrare sostanzialmente all'interno della linea melodica e sostanzialmente cosa fare sublimare la liricamente la passione umana che deve esprimere attraverso la tensione statica attraverso la melodia che diviene sempre dolce la melodia belliniana voi lo sapete benissimo è sempre una melodia dolce tenera commovente malinconica trovate tutti gli aggettivi possibili elegiaca ma è una melodia che serve al personaggio per esprimere il dolore questo è una cosa estremamente romantica ma anche riguarda il passato il passato appunto di Paesiello e la grande tradizione del bel canto passata che affonda nell'opera del settecento nella grande opera seria e in un certo tipo di opera rossiniana per questo si dice che il bel canto finisce con rossini e il romanticismo inizia con bellini e prosegue con donizzetti e verdi in realtà il bel canto prosegue ancora con bellini che si situa in una posizione un po' ambigua un compositore certamente romantico per scelte alcune scelte realistiche ovviamente non ci sono più personaggi antravesti il tenore è un uomo l'amoroso viene incarnato da un tenore non più da un personaggio antravesti quindi si abbandona un po' il settecento però attraverso questa ricerca questo desiderio di portare la malinconia delle melodie alle conseguenze più estreme si ha la cifra stilistica tipica belliniana che è quella di esprimere il dolore attraverso la dolcezza e per farlo bisogna avere appunto degli interpreti capaci non solo di intonare la melodia perché al di me si rischia di essere come il 90% delle volte capita a livello esecutivo noiosi bisogna assolutamente riuscire a sublimare liricamente ciò che Bellini vuole trasmetterci attraverso la melodia ecco un interprete che sa farlo Edita Gruberova che affronta questa magnifica pagina che avviene al Tempio che ci porta alla chiusura del finale del primo atto in fretta e furia vi racconto prima di ascoltare questo brano cosa avverrà nel secondo atto nel secondo atto avviene c'è l'aria del basso Cinta di Fiori la pazzia di Elvira il duetto Suoni la tromba intrepido in cui sostanzialmente il basso Giorgio convince Riccardo a rinunciare a Elvira e a unirsi ai rivoltosi per affermare il potere di Cromwell su quello degli steward l'ultimo atto è un atto molto drammaturgicamente molto confuso in cui l'opera l'atto si apre con l'aria la grande aria del tenore tenore che a questi punti è stato condannato perché è fuggito per salvare Enrichetta è stato condannato in contumacia sostanzialmente ma decide di raggiungere comunque la sua Elvira lo fa in questa grande scena fra recitativo arioso corre a valle corre a monte si unisce finalmente a Elvira ancora fuori di senno in un grande duetto e poi viene catturato dai militari che vogliono giustiziarlo in quel momento giunge notizia che c'è stata l'amnistia dal momento che ormai essicura la vittoria di Cromwell sugli steward e sostanzialmente Arturo viene graziato e può finalmente riunirsi alla propria Elvira tutto questo ultimo atto avviene attraverso pagine estremamente elegiache e poi ne ascolteremo dopo se avremo un attimo anche un momento dell'aria del tenore ma per entrare appunto in questo clima melodico così quintessenziato così elegiaco ascoltiamo quella che forse per me è la pagina più belliniana dell'opera che questo avviene al tempio l'idea comunque è quella che vi ho espresso questo è solo un nucleo per farvi capire proprio come in questo momento specifico drammatico quando Elvira perde il senno ed è abbandonata dal suo Arturo che ha lasciato la fortezza portando via con sé Enrichetta per salvarla dal processo ecco Elvira perde il senno e si abbandona questo dolore estenuato è difficilissimo cantare questa questa melodia bisogna veramente non solo intonarla ma quasi dare attraverso il senso della recitazione della melodia stessa il clima rendere proprio il clima che Bellini desiderava trasmettere attraverso badate bene anche queste arcate vocali che sono difficilissime da eseguire ecco perché gli interpreti belliniani e anche non belliniani sempre sono sempre un po' a corto d'ossigeno quando devono affrontare un'opera come Puritani un'opera che presenta difficoltà vocali sovrumane veramente che sono un po' lo specchio di quello che probabilmente dovevano essere i primi interpreti Giovanni Battista Rubini fu Arturo Giulia Grisi Elvira Luigi Lablash Giorgio il basso Tamburini la parte invece del baritono certamente il ruolo di Arturo e il ruolo di Elvira sono diventati sono entrati un po' diciamo nella mitologia esecutiva ottocentesca e soprattutto novecentesca direi che il ruolo di Arturo è quasi diventato un po' un simbolo di ineseguibilità ma l'ineseguibilità cari amici non è solo legata al fatto di riuscire a fare il famigerato do diesis della Teocara oppure di fare il fa sovracuto del credeasi misera che è scritto ma con un'opzione anche da Bellini di ometterlo per eseguire un semplice re non è semplicemente raggiungere le note acute che probabilmente Rubini anzi sicuramente Rubini raggiungeva in falsettone e non di petto come invece fece successivamente Dupré ma era il vero il vero problema per l'interprete belliniano e per Arturo è creare lo stile che un personaggio come come il protagonista dei Puritani di Arturo aveva creato che era questo questo senso di romanticismo malinconico che aveva attraversato un po' tutte le parti che Bellini aveva composto per Rubini da Gualtiero nel Pirata prima ancora nel Bianco e Fernando e il Vino nella Sonnambula insomma ruoli in cui l'amoroso canta su tessiture acutissime e su una una melodia che quasi va emessa con dei suoni vagamente bianchi che non tutti i tenori oggi riescono a restituire quindi c'è un doppio problema quando si affrontano i Puritani e nello specifico la parte di Arturo l'esecuzione di ciò che è scritto e la restituzione dello stile secondo la prassi esecutiva antica ottocentesca perché Rubini è considerato proprio il creatore di una vocalità di stampo romantico il tenore il classico tenore contraltino e statico di Grazia ossia l'amoroso l'amoroso che nell'opera barocca era il castrato che diventa tenore nell'ottocento ed è un tenore che canta su melodie molto aggraziate molto dolci un tenore che esprime l'amore attraverso la dolcezza ecco perché nell'ultimo atto prima ancora di incontrarsi con Elvira nel duetto e nel finale poi che porta la voce del tenore addirittura fino al fa sovracuto il tenore canta su questa melodia così semplice che è al tempo stesso romantica e al tempo stesso come abbiamo spiegato anche prima un po' antica un po' paeseliana ascoltiamo ora il Correa Valle la DVD 4 la traccia 11 e sarà l'ultimo ascolto di questa sera in cui abbiamo voluto offrire un po' dei piccoli stralci che ci permettessero di capire lo stile compositivo di Bellini applicato ad un'opera per Parigi e anche lo stile degli interpreti dei primi interpreti che con così difficoltà oggi si tenta di trovare per eseguire in maniera più che adeguata lo stile belliniano che oggi sembra un po' un po' sparito ma in qualche modo si è ritrovato grazie a curi interpreti come la De Via o grazie anche a tenori come Gregory Cunte e Rockwell Blake che hanno ripristinato lo stile antico appunto come si dovrebbe fare come l'aria che adesso speriamo di essere riusciti a ritrovare il Correa Valle Correa Monte preceduto da un breve recitativo ecco questa è una situazione dell'ultimo atto molto romantica dal punto di vista del soggetto ma sentite questa melodia come veramente dà l'idea dell'innocenza della purezza della malinconia attraverso la quale Bellini vuole costruire nel personaggio di Arturo l'eroe romantico ma anche il cantante il tenore che sa cantare d'amore e lo fa attraverso queste melodie così pure che è più facile forse quando investono il personaggio di Elvira ma ancora più difficili da eseguire quando sono affidate a tessiture così acute al personaggio del tenore di Arturo che è veramente una delle parti più famigerate nella produzione tenorile dell'Ottocento veramente un ruolo ai limiti dell'ineseguibilità cosa dire se non lamentarci che dopo i puritani nello stesso anno nel 1835 Bellini morì morì per un'infiammazione aveva aveva una salute piuttosto cagionevole si dice un'infezione intestinale insomma Bellini lasciò un'eredità di sole dieci opere ma è comunque un compositore che ha segnato la storia del melodramma del primo Ottocento e c'è veramente da domandarsi cosa sarebbe stata la carriera di Bellini se avesse potuto varcare oltre il 1835 proseguire nell'arco dell'Ottocento morì a soli 35 anni c'è veramente da chiedersi se questo desiderio di rinnovarsi attraverso anche un'opera come i puritani sarebbe proseguite in maniera più radicale o se forse Bollini avesse mantenuto ancora questo tuo desiderio di mantenersi legato all'antico attraverso questo suo desiderio di esaltare la melodia non possiamo sapere quello che sarebbe stato la storia non si fa con i sé si fa con la concretezza e dopo purtroppo i puritani Bellini ci ha lasciato ma ci ha lasciato sicuramente un grande capolavoro che con infinito piacere riascolteremo a Reggio grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti